il 17 giugno avverrà l'inaugurazione della fondazione isola di pantelleria la fondazione che si dedica alla salvaguardia e alla promozione dei tesori culturali naturali dell'isola di pantelleria mira a sensibilizzare sulle sue uniche bellezze nel mediterraneo con le sue azioni la fondazione si propone di protegge e preservare sia i siti culturali che le risorse naturali per le future generazioni l'isola di pantelleria situata geograficamente più vicina alla tunisia che alla sicilia è famosa per i suoi paesaggi vulcanici incantevoli villaggi vinicoli e ricca storia con la sua apertura la fondazione intende sostenere progetti che si concentrano sul restauro e la protezione di edifici storici sulla promozione di pratiche agricole ittiche sostenibili e sulla creazione di programmi educativi per i residenti e i visitatori background e obiettivi della fondazione secondo un comunicato stampa degli organizzatori fonte agenzia pustampa punti el e ti gli sforzi per istituire la fondazione sono stati guidati da un gruppo di sostenitori locali e internazionali che si impegnano attivamente per preservare l'integrità culturale ed ecologica dell'isola il presidente della fondazione ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le autorità locali le organizzazioni non profit e le istituzioni internazionali per promuovere progetti comuni che hanno un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente un obiettivo centrale della fondazione è sostenere il territorio e i suoi abitanti ciò deve avvenire attraverso iniziative volte a promuovere l'agricoltura in particolare il famoso passito di pantelleria nonché il turismo sostenibile l'obiettivo è trovare un equilibrio tra la crescita economica e la protezione delle risorse naturali in order to ensure that future generations appreciate and are willing to protect the heritage of pantelleria it is important to protect and preserve the traditional construction of the the typical stone houses of the island in an interview with la sicilia the director of the foundation emphasized that this is another key focus of their work these houses not only represent an architectural heritage but also contribute to preserving the rural character of the island a special focus of the foundation is the protection and promotion of the culinary heritage of the island especially wine production pantelleria è famosa per il suo moscato e il vino liquore passito secondo un articolo della gazzetta del sud fonte gazzetta del sud.it la fondazione collabora strettamente con i produttori locali per preservare le loro tradizioni e promuovere la qualità dei loro prodotti ci sono anche programmi di formazione per giovani produttori e iniziative di marketing per promuovere i vini all'estero la ricchezza gastronomica dell'isola caratterizzata da una miscela di influenze arabe siciliane e da una vasta scelta di frutti di mare freschi è promossa e preservata dalla fondazione la fondazione intende organizzare workshop culinari e festival per attirare visitatori e celebrare il patrimonio culinario un obiettivo comune per un futuro sostenibile la creazione della fondazione isola di pantelleria è un passo significativo verso un futuro sostenibile per l'isola con un approccio olistico che integra ambiente cultura ed aspetti economici la fondazione si propone di preservare l'eredità di pantelleria e al contempo migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti questo viene raggiunto attraverso una stretta collaborazione con gli attori locali e i partner internazionali per garantire che le azioni della fondazione siano sostenibili ed efficaci l'inaugurazione solenne della fondazione non è vista solo come un atto simbolico ma come l'inizio di una nuova era per l'isola di pantelleria che dovrebbe essere un esempio nei suoi sforzi per la sostenibilità e la preservazione culturale sabato 8 giugno 24 ha Anita Fak